Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Perdonate se non c'è la webcam, ma al solito, come avevo già annunciato in live precedentemente Uno, si è rotta, quindi comunque bisogna riacquistarla, sicuramente qualcosa di un pochino più professionale E due, siamo in fase di un po' trasloco e tutto quanto, quindi siamo un po' nel casino insomma E anche ad averla avuta non mi sarebbe piaciuto tanto mostrare un po' il baccano che c'è in camera Comunque, ancora una volta torno a parlarvi di Enlisted perché, come avete potuto leggere dal titolo E sicuramente dalla miniatura del video, ennesima delusione Ma vi spiego, ovviamente, cercherò di spiegarmi per bene sulle mie idee e soprattutto impressioni che ho avuto in questo, diciamo, primo mese di gioco E ve ne parlo dopo la sigla Enlisted, gioco della Gaijin Mi sembra, non vorrei dire una cavolata, ma sono gli stessi di Cursed, quello alla fin fine che era Cuisine Royale Un gioco che, due o tre anni fa, uscì come pesce d'aprile, scherzo del primo d'aprile E quando uscì ci fece tutti quanti contenti perché potevamo provare cos'era Enlisted, delle mappe che avevano fatto E soprattutto l'idea principale del gioco che era una specie di open world Ma soprattutto abbiamo tastato con mano un prodotto che esisteva Di cui si era tanto sentito parlare ma che poi alla fin fine non si era più visto, ne sentito niente e tanta gente l'aveva finanziato E se voi avete giocato a quello che era Cuisine Royale, che ora si chiama Cursed, gioco gratuito su Steam Tra l'altro anche divertente, carino, molto più Enlisted secondo me Comunque, giocabile in prima e terza persona C'è una mappa di gioco immensa Ok, che deve riprendere un Battle Royale E il Battle Royale per forza con 100 giocatori ha bisogno di una mappa molto più grande Ma è una mappa immensa Cioè sono 10 mappe di Battlefield tutte quante messe insieme Che potrebbero creare l'isola di Altis, di Arma 3 Cioè è veramente grandissimo e sarebbe il classico scenario dove giocare anche di ruolo O dove ambientare un mo Perché vi ricordo che Enlisted nasce come mo Quindi come gioco online persistente e in fase di Kickstarter Di crowdfunding, loro personale, una specie di Kickstarter Loro sul loro sito Avevano annunciato che sarebbe stato un gioco persistente online Come Foxhole, senza nemmeno tanto nasconderlo Dove ci si poteva collegare a tutte le ore del giorno in questa guerra persistente E magari collegandosi la mattina e facendo la battaglia presso un ponte Per difenderlo magari dall'avanzata delle truppe dell'asse Rijoinando la sera verso l'otto tornati dal lavoro Magari quel ponte era stato perso, era stato preso dalle forze dell'asse Oppure era stato guadagnato dagli alleati Cosa che non è assolutamente vera Perché questo gioco non solo non ha fatto queste cose di mo E va bene, io lo valuto oggi In data che vedete il video Come open beta Ragazzi, come al commento al video di The Isle Coridan, ma guarda che è cambiato molto Grazie al cavolo, dopo 5-6 anni Ci credo e ti do ragione che magari è un bel gioco E ho sbagliato, cioè ho sbagliato al tempo L'ho valutato con le impressioni del tempo Quindi questo gioco fra 5 anni se ci arriverà Magari sarà un capolavoro e ci avrà tutte queste cose Ma al momento di quello che avevano promesso Non c'è niente, ma non niente per esagerare Zero, ovo come si dice a Livorno, nulla È un battlefield plus È un battlefield dove non si può fare sinistra-destra Strafe, non si possono fare le scivolate E si muore con un colpo Me lo potete consentire Si muore con due colpi Perché tutti gli altri mi ammazzano sempre con un colpo Io quando colpisco dal tronco alla testa Almeno che non li faccio un headshot Vanno in terra, vabbè, lasciamo sta Comunque, con un colpo O giù di lì Però comunque è un battlefield Le stesse modalità Conquista, invasione È un battlefield dove si muore con un colpo E non con 300.000 Non ci sono i punti ferita Se un colpo è intramesso bene Ti uccido, ti dovrebbe uccidere Gioco solamente in prima persona E soprattutto non è un simulatore Perché ragazzi, non vuol dire che se c'è la stamina E se ti stanchi, se non puoi fare sinistra-destra E con un colpo ammazzi Il gioco è un simulatore Perché il gioco a cui questo si ispira E i programmatori non l'hanno mai nascosto È Rising Storm Rising Storm non è un simulatore È uno sparatutto hardcore L'hanno detto gli stessi programmatori Ma come anche altri titoli Verdun, Tannenberg Tutti quelli che volete Come Hell Let Lose Nemmeno Hell Let Lose si definisce un simulatore Post Cryptum è un simulatore Arma 3 è un simulatore Questi qui invece sono giochi Che sono giochi hardcore Sicuramente per un altro tipo di pubblico Non quello che gioca a COD e tutto quanto Però non sono assolutamente simulativi Ma il gioco dovrebbe essere un simulatore Perché loro lo spacciano per un simulatore E soprattutto Con le promesse che avevano fatto un tempo Due promesse principali Che non hanno rispettato Primo la terza persona E non c'è La terza persona Sì, abbiamo optato per avere un gioco più realistico Sì Ma se io al tempo vi ho finanziato Quei 50 euro Perché Ho letto Gioco in prima e in terza Io ci speravo con questa cosa Ed è giusto che quando fai delle promesse In fase di Kickstarter Poi non te le rimangi E soprattutto il fatto Ora Poi queste qui sono Non sono le note dolenti È la parte più facile La parte più difficile Arriva dopo E ve lo faccio vedere A schermata E poi soprattutto Per il fatto Che non ha la mappa persistente Doveva essere un foxhole Un foxhole in prima e terza persona Invece un battlefield Però queste sono cavolate Cavolate Stupidate Che magari un giorno Metteranno anche Metteranno la terza persona Metteranno Tutto quanto Quindi Metteranno anche magari Le corazzate I cacciatorpedinieri Metteranno qualsiasi cosa Non lo metto assolutamente in dubbio Perché il gioco deve evolversi Ed è un open beta Io infatti valuto l'open beta Da qui a due anni Magari farò un altro video E dirò quel video lì Vi ricordate le cose che ho detto Però Non è tanto Il fatto di dire cavolate o meno È il fatto del provato Al momento E insomma Di ore c'è un bel po' Anche perché Senza Senza Che ora vi faccio vedere Premium Sono livello 10 Nella campagna Con i tedeschi Quindi comunque Nella Normandia Non è roba da poco Per quanto ci sono tutti quanti Sti livelli Questa è una modalità carina Perché con la campagna Vai a sbloccare Tante cose Che È bello Cioè Ti formi la squadra Come ti pare a te Con i carri che ti pare a te Nessuno ti può rubare il car armato Nessuno ti può rubare lo slot Dell'aeroplano Li metti in squadra E li usi Bellissimo Però Dov'è il problema? Questa Schermata qui Della campagna Il gioco Dice che non è un pay to win È un pay to have Sì Ma è un pay to have Scusa È un pay to have Prima Molto prima Ma troppo prima Perché se Siccome non ci sono Matchmaking Se io entro in battaglia Con un Eccolo qui Se io entro in battaglia Con un piccolo Stuart Con un M5A1 Ok? E sono livello 2 Magari nella stessa partita Trovo qualcuno Dell'asse E mi è recapitato Perché vi assicuro Mi è recapitato Con un Panzer 4 Panzer 4 Che ha la bellezza Di un 74 75 mm Di cannone Contro Uno Stuart Leggerissimo Che Ha Un'arma schifosa No scusate Ve lo faccio vedere meglio Tornando indietro Quindi Andando a vedere Un M5A1 Che ha un cannone Da 37 mm E frontale C'ha armatura 64 mm Magari Mi vado a trovare Contro Andando Nelle forze dell'asse Mi vado a trovare Contro Un Panzer 4 Che ha un cannone Da 75 E frontale 80 Cioè praticamente Come se voi Vi mettete un paio Di guantoni E dovete andare A fare a botte Con Mike Tyson Uguale La speranza di vince È la stessa Che avete voi Con un paio di guantoni Contro Mike Tyson Dall'altra parte E non va bene Poi Un'altra cosa Livello 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 Arrivo a questo livello Qui Al 2 Scusate Subito appena sbloccato Il 2 E faccio No bellissimo L'MP18 Lo volevo che lo uso Tanto anche su altri giochi L'ho sempre usato Anche su Rising Storm Perché non me lo fa sbloccare Perché non me lo fa sbloccare Perché? Perché te lo devi comprare Ho capito Che un gioco Free to play Da qualche parte Devono fare soldi Però non è giusto Che lo becco Nell'albero E non li posso prendere Perché mi richiedono 875 monete Che poi dopo Le devo andare a shoppare Ora Ora si è aperto Il sito Le devo andare a shoppare Che sono queste qua Quindi io per comprarmi loro Devo spendere 999 Che l'abbonamento mensile È questo qua giù E mi danno 990 monete Poi 30 giorni E 2 slot in più Per la squadra 2 slot in più Per la squadra Che mi consentono Di essere troppo più forte In gioco Perché non ho Soltanto questa roba qui 3 truppe Il carro armato C'ho 4 truppe Più il carro armato Più l'aereo Il bombardiere Quindi io c'ho Troppo più volume di fuoco Da portare in campo Poi Le velli prima Quindi lo stesso problema Che trovi gente Molto più armata di te Perché io non scherzo Io ho trovato gente Io ho trovato gente Con delle mitragliatrici D'assalto Con l'ottica da cecchino Con le mg34 42 E io è roba Che non c'ho E mi fa lo stesso effetto Di competitività Sballata completamente Di heroes and generals Heroes and generals Aveva lo stesso Identico problema Di questo gioco Che chi shoppa C'ha più cose di te Occhio Occhio Le potete avere anche voi Ma a tempo che arrivate A questo livello qua giù E ci mettete Magari un mese E quello in 10 giorni Ci arriva Perché magari poi C'ha il pass Da streamer C'ha il pacchettino Da streamer Da youtuber E cose del genere Ho visto streamer Ragazzi che hanno 10.000 punti qui C'è 10.000 punti Hanno già sbloccato tutto E te che sei lì Che inizi a giocare Da ora Ti trovi in partita con questo Perché non c'è un matchmaking Ripeto Ti puoi trovare un panzer 4 Oppure un panzer 2 Contro un firefly Tranquillamente E ti aprono Il sederino Ti fanno tanti grossi danni Io ad esempio Mi sono trovato Con il mio panzer 3 Andare a combattere Contro americani Che avevano un Un m5a1 Ragazzi mi colpivano sul fianco Non mi foravano Io mi giravo Sparavo Ho distrutto Sei carri armati Amore amore A mia moglie Ho distrutto sei carri Ma cosa ho distrutto sei carri Cioè vi ripeto È come se Mike Tyson Prende da sei cazzotti A dei quindicenni Per strada Arachitici Lì stand Sono fortissimo Cioè non c'è competizione Ok che è un pay to have Prima Però il giocatore normale Che non vuole pagare Perché un gioco free to play Poi tutti ci devono guadagnare Però lo fai scappare E allora quello deve pagare Va bene E paga 9 euro 10 euro al mese Per avere tutte ste cose Tutti i mesi le devi pagare Non è che compri un pacchettino Una volta e l'hai sbloccato Tutti i mesi In più Le campagne Sono Quando sono in close test 30 euro In close test Poi quando diventano pubbliche Sono gratis Perché è un gioco gratis Giustamente Ma davvero io Che ho già comprato La battaglia di mosca E ci ho speso 30 euro Quando voglio provare La close test Della battaglia di Di berlino Devo pagare nel t30 Coridan Ma aspetta che esca pubblica Ok Però comprandola Perché se compri la battaglia Di berlino Ti dà ovviamente Se non erro Vediamo un attimino Se compri la battaglia di berlino Ti dà nel bundle Anche delle squadre Ti dà dei soldi Ti dà delle squadre Che chi come loro Tipo i russi Con la pettorina Per calibri leggeri Ti dà delle squadre Che gli altri Non avranno Perché ci sono Delle forze Che purtroppo Il 99% Del gioco Ti fa sbloccare tutto Però ci sono Delle forze Che non le puoi avere Tipo loro Come vi ho fatto vedere prima Loro sono Un'unità Che non la puoi avere La devi comprare Punto e basta Cioè non c'è L'arma magari la sblocchi Però se vuoi Quell'unità lì Per forza di cose Devi pagare Allora dico Allora dico Allora dico l'altra cosa Battle pass Finalmente ho sbloccato 300 monete Oh Quando arriverò A sbloccarne 900 Mi compro il pass A gratis Quindi Albion online Farmi come un cinese Ti fa i gold E con i gold Ti compro il premium Arrivo qui Lo vedete Livello 10 Perché non me l'ha dati? Perché devi comprare Elite pass Io infatti Sti 300 Quassù Non ce l'ho Quindi anche volendo giocare Tantissimo Perdo la vita sociale Non faccio più niente Mi dedico solo Enlisted Vado a sbloccare Ste monete Per farmi l'abbonamento Mensile Giocando Giocando Sudando Giocando Niente Non lo posso avere Quindi devo per forza Di cose Shoppare E non va bene Cioè Non va assolutamente bene Una cosa del genere Perché è classico Della Gaijin E ve ne parlo Da Collaboratore E partner Gaijin Da 6 anni Lo sapete Ve lo ricordate Sul canale Con War Thunder Questa cosa Non va assolutamente bene Poi anche Questi Armi dorate Che in 100 ore Che ho di gioco Non ho mai sbloccata Nemmeno una Quindi non le puoi avere A meno che non shoppi Io se volessi lui Heinz Coleman Devo pagare Perché non c'ho cose dorate Se volessi loro Devo comprare lo starter pack Se volessi loro Devo pagarli Se volessi questa unità Con la Browning Non la posso avere Perché devo comprare Il pacchettino Quindi è tutto un comprare Se no C'hai della roba Che fa schifo Perché vi assicuro Vabbè Lasciamo stare lui Lasciamo stare lui Quanto costa Cioè Devi pagare Un è Pay to have prima È pay to have Molto prima Ma è anche un pay to win Perché ci sono delle cose Che io non posso avere Se non pago E quelli streamer Che hanno 10.000 monete Buon per loro Non è una rosicata Io sto giocando senza passa E mi sto divertendo Anzi sto per sbloccare Sta truppa Con il Breda Non voglio riprovarla Però c'è gente Mi ritrovo Gente in partita Che c'ha già tutto E io suco Cioè ne tocco Come un animale Perché è normale Che se tutti C'hanno l'MP40 E io c'ho Un Car98 In una truppa Oppure c'ho Un FNAB43 E non faccio niente Mi distruggono E non va bene Mi sono rimasto Delusissimo Perché ho detto Finalmente Sto gioco è uscito Finalmente Non vi devo l'ora Intanto Delle promesse Fatte in Kickstarter Non ne hanno rispettata una Nemmeno una E poi L'unica cosa Forse che gli do in merito Avevano annunciato Queste quattro campagne Di cui ne sono già uscite tre Quindi Manca solo quella di Tunisia Qui tanto di cappello Speriamo che lavorino Sul Pacifico Però Usate un po' di tosse Però non va bene C'è un gioco buttato così È Diros in Generals All'ennesima potenza Se paghi C'hai Se smetti di pagare Non giocare più Perché ti trovi Gente con il King Tiger O Un Panzer IV E te sei di là Con un Gewehr Oppure sei di là Con le truppe alleate Che c'hai Un coso Un Garand C'è con un Garand Senza bomba a mano Per poi non parlare Delle truppe Perché non si può vedere Una truppa Questo Fucile e pistola E bomba Ma l'ho levelati tanto È bomba Pistola Cioè questo non c'ha Nemmeno la bomba Non c'ha nemmeno la pistola Cioè ma ti mandavano In guerra così Con una mitraglietta Così Senza una pistola Da mettere in tasca Var cosa Nel cinturone Cioè Con le truppe mezze vestite Mezze nude Vincian Non va bene ragazzi È il solito gioco Gaijin spilla soldi È brutto No Me lo consigli di giocarci Sì Ma non lo prendere Troppo seriamente Se ci butti Tante ore il giorno Come sto facendo io ora Ne rimarrai Veramente scottato Se no Ti fai l'abbonamento Questo Il premium account E se non ti basta Il premium account Che viene 10 euro al mese Puoi andare anche qui E ti può comprare L'elite battle pass Quindi può comprare due cose Perché sono due cose separate Eh Come vedete Sono due cose Completamente separate Non è lo stesso Per velocizzare anche questa Insomma Ti ci vogliono 20 euro al mese Per giocare Quando sarebbe bastato Farlo pagare 39 euro 40 euro Te l'avrebbero comprato Tutti Perché tutti L'avrebbero comprato Dopo schifo Field 5 Te l'avrebbero comprato Tutti E non c'erano queste cavolate Del shop A compra Paga Non mi garba Per niente Non voglio fare lo zeb Della situazione Ma La mia voglia Di giocare a questo gioco Qui è calata Veramente Di un buon 50% Speriamo si ravvedano Un pochino Ciao ragazzi Alla prossima Alla prossima